Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi che si apre con la cronaca occupandoci dell'ultimo caso di violenza sessuale che si è consumato a Salerno L'ostacolo più grande che una donna si trova ad affrontare dopo aver subito una violenza sessuale soprattutto è quella di essere sottoposta a giudizio il commento dell'avvocato Claudia Pecoraro, legale di fiducia della ragazza fondamentale il ruolo di supporto, protezione ed assistenza legale e psicologica offerto dal centro antiviolenza Leucosia la ragazza 19enne stuprata da un 35enne e da un'amica collega in un'abitazione poco dopo essere stata in discoteca lo scorso mese di agosto sentiamo Trovate il coraggio di denunciare le violenze che avete subito è l'appello che viene lanciato più volte rivolto a chi subisce molestie che questa volta ha trovato l'immediata risposta il coraggio della giovane 19enne salernitana stuprata da un 35enne e da un'amica collega nell'abitazione della donna dopo una serata trascorsa in discoteca lo scorso 31 agosto i due sono stati arrestati grazie alle indagini della squadra mobile di Salerno e la polizia postale l'ostacolo più grande che una donna si trova ad affrontare dopo aver subito una violenza sessuale soprattutto è quella di essere posta sotto giudizio e il commento dell'avvocato Claudio Apecoraro consigliere comunale del Movimento 5 Stelle legale difensore della giovane Claudio Apecoraro lei è illegale che cura e tutela la vittima di questa bruttissima storia dove ha giocato un ruolo importante avere il supporto di un centro antiviolenza che potesse aiutare questa ragazza a trovare il coraggio di denunciare Coraggio, è la parola esatta il centro antiviolenza interviene nel momento stesso in cui la ragazza deve poi elaborare tutto quanto quello che ha vissuto per farlo emergere in maniera dettagliata in maniera puntuale all'interno di quello che poi sarà il processo quando poi una donna vittima di violenza si trova all'interno del processo a dover rendere la testimonianza rispetto a quello che ha subito noi sappiamo che quell'atto diventa fonte di prova primaria all'interno di reati per i quali non sempre abbiamo testimoni esterni anche perché qua ci troviamo davanti ad una ragazza di solo 19 anni che tra l'altro è stata tradita da una collega che considerava anche amica quindi entrano in gioco anche dei fattori emozionali importanti per una ragazza di 19 anni Assolutamente sì, noi siamo assolutamente abituati a pensare che questo tipo di reati ovviamente sono commessi da uomini quando poi questo reato viene commesso anche alla presenza di una donna l'emotivo e la difficoltà che si sente nella persona offesa di riuscire a raccontare il doppio tradimento e da un lato l'aver vissuto uno degli atti più atroci che una donna possa subire cioè la violenza sessuale dall'altro rimanere incredula che sia stata proprio una donna quella di aver tradito la tua fiducia e ad aver concorso nella realizzazione di questo tipo di reato quindi diventa sempre più difficile per la ragazza e per la donna poter raccontare con serenità perché già si parte dal presupposto ed è uno degli ostacoli principali di non essere credute di dover vivere quello che è il pregiudizio sociale che va a individuare nella donna e a ribaltare sulla donna quasi una responsabilità di quello che ha subito come se qualsiasi tipo di comportamento le avesse avuto fosse stato non appropriato che forse quel no detto era un no non troppo chiaro e allora quando poi ti trovi davanti a queste situazioni e quando poi dall'altra parte hai anche una donna diventa ancora più difficile pensare che dall'altra parte avrai qualcuno che ti crederà Avvocato c'è anche un aspetto che ancora non è stato non è ben chiaro cioè se la ragazza sia stata costretta sia stata ingannata ad assumere delle sostanze stupefacenti e rispetto proprio a questa vicenda lei che è anche consigliere comunale a Salerno ha presentato anche un'interrogazione al sindaco di Salerno perché è emersa da questa storia l'assenza del necessario kit in dotazione presso il Ruggi di Salerno per poter accertare l'uso di sostanze stupefacenti proprio nel kit antistupro Assolutamente sì si è scoperto quando la ragazza è stata sottoposta al kit antistupro al Salerno a Ruggi che in realtà il Ruggi non ha in dotazione i reagenti per l'accertamento della presenza all'interno del sangue e delle urine di determinati tipi di droghe tra le quali la droga dello stupro la mancanza di questo esame, di questa analisi ovviamente inibisce in maniera importante quello che è l'esito delle indagini e anche l'accertamento delle modalità con le quali è stato posto in essere quello che è il reato in questo caso contestato Un messaggio che possiamo inviare perché questa storia insegna come dicevamo in apertura di questa intervista quanto sia importante denunciare e questa ragazza nonostante la giovane età ha trovato il coraggio di farlo con il vostro supporto Assolutamente sì una delle prime cose che mi ha detto appena avuto la notizia è stata proprio quella quella della grande soddisfazione che sentiva nel dire grazie a questa cosa che io sono riuscita a fare nessun'altra ragazza nessun'altra donna rischierà di subirlo Fondamentare il ruolo di supporto protezione ed assistenza legale psicologica offerto dal centro antiviolenza Leucosi alla 19enne a ribadirlo questa mattina è stata la presidente dell'associazione spazio donne responsabile del centro antiviolenza Michela Masucci e la legale della vittima Claudia Pecoraro che proprio tempo fa nel suo ruolo di consigliere comunale dopo aver scoperto che all'ospedale Ruggi di Salerno mancano i reagenti per scoprire se una vittima di stupro sia stata costretta ad assumere la droga per lo stupro si è rivolta al primo cittadino di Salerno Noi sappiamo benissimo quanto le donne vittime di qualsiasi forma di violenza subiscono una vittimizzazione secondaria troppo spesso frutto di una cultura maschilista e patriarcale che ancora ad oggi giustifica e minimizza la violenza subita della donna attribuendo qualche tipo di responsabilità alla donna stessa soprattutto poi quando si tratta di giovani donne vittime di stupro il ruolo del centro antiviolenza è stato determinante perché all'interno del centro antiviolenza le donne, la donna e tutte le donne possono trovare operatrici, avvocate, psicologhe tutte donne e tutte esperte pronte ad accoglierle, a crederle a non giudicarle, a sostenerle accompagnarle in un percorso a 360 gradi in cui poter accogliere quel vissuto dare uno spazio per raccontare i dettagli anche più traumatici, più intimi, più dolorosi e accompagnarle anche in importanti azioni legali di tutela, di protezione e di giustizia Assolutamente sì, noi come Associazione Differenza Donna gestiamo anche uno sportello antiviolenza all'interno della procura del Tribunale di Salerno e portiamo avanti costantemente un ottimo lavoro di rete in sinergia con uno scambio costante una procura che riconosce l'impegno del centro antiviolenza e l'esperienza del centro con cui portiamo avanti grandi progetti a sostegno e a tutela delle donne Nel corso di una conferenza stampa invece questa mattina il Comitato Salute e Vita ha pubblicato a rito pubblica l'ultima querela denuncia presentata da 10 cittadini salernitani che va ad aggiungersi al corposo numero di documenti che pesa nella vicenda delle fonderie Pisano di Via dei Greci a Frate l'occasione anche per fare il punto dell'attuale situazione civile e penale della vicenda Sentiamo C'è un'ultima denuncia querela presentata da 10 cittadini salernitani che va ad aggiungersi al corposo numero di documenti che pesa nella vicenda delle fonderie Pisano Nel corso di una conferenza stampa questa mattina l'Associazione Salute e Vita in collaborazione con Medicina Democratica ha reso pubblica la denuncia querela che hanno presentato lo scorso 28 dicembre 10 cittadini salernitani tra i quali il presidente Lorenzo Forte e l'ex dipendente delle fonderie Pisano Giovanni Landi lo stesso operaio che a maggio del 2022 al programma televisivo Le Iene raccontava cosa avveniva all'interno dello stabilimento senza che i lavoratori potessero fermare le vergognose azioni portate avanti dalla proprietà e quanto si legge in una nota del Comitato Salute e Vita tra i firmatari della denuncia anche Anna Risi che memoria di sua figlia Antonella scomparsa a 19 anni a causa di una leucemia mieloide acuta ribadisce con forza che bisogna continuare a lottare per garantire un futuro sicuro alle nuove generazioni e Massimo Calce che paga ancora le conseguenze di un neurinoma dei nervi cranici e dichiara che dopo tutti questi anni i residenti della Valle dell'Irno non sono ancora stanchi di lottare per far emergere la verità che è rivelata dai fatti anche Carla Cirillo, altra attivista del Comitato Salute e Vita esprime preoccupazioni per il risultato delle sue analisi relative ai metalli pesanti ma dopo un primo momento di sconforto le è stato subito chiaro che l'unica reazione giusta e possibile era quella di sottoscrivere la denuncia querela per la prima volta cittadini e lavoratori delle fonderie Pisano fanno una denuncia querela alla procura per chiedere giustizia rispetto alla loro salute perché molti di loro abbiamo trovato nei nostri capelli gli stessi metalli che si sono trovati nello studio Spess mercurio, cadmio, addirittura uranio e altri metalli tossici provenienti dalle fonderie Pisano quindi abbiamo dimostrato con questa richiesta di punizione alla procura che quei metalli, quella situazione di disastro ambientale certificato nel 2017 persiste tutt'oggi non ultimo, pochi giorni fa c'è stato l'ennesimo incidente abbiamo visto fiamme alte uscite dalla fonderia abbiamo chiamato la polizia perché la proprietà non ha chiamato neanche i vigili del fuoco hanno spento le fiamme abbiamo saputo con le pompe interne della fonderia grazie al fatto che noi abbiamo fatto la battaglia da fuori nel 2015 quando abbiamo scoperto che mancava il certificato di prevenzione incendio grazie a noi la fonderia è stata costretta a spendere i soldi a fare quelle pompe a fare il certificato, il CP e in questo modo si è impedito che ci fossero vittime Lorenzo Forte questa mattina nel corso dell'incontro non ha mancato di fare un escursus sulla vicenda dello studio di biomonitoraggio ambientale SPES con questa denuncia abbiamo voluto mettere in evidenza che nulla è cambiato da quando c'è stato il dissequestro nel 2017 non trascurando di parlare anche della richiesta di costituirsi parte civile per il rinvio a giudizio il prossimo 2 febbraio in merito al pericolo di Ossina per la mancata applicazione delle batte all'interno delle fonderie Pisano il 2 febbraio un ennesimo processo certo la giustizia è lenta e spesso non riesce a dimostrare quello che in realtà succede che viviamo sulla nostra pelle la puzza nasabonda e i danni che ci sono quotidiani spesso non c'è questa non si riesce giustizia e verità giudiziaria non corrisponde alla verità reale perché c'è la prescrizione ci sono tutta una serie di agevolazioni che favoriscono chi ha i soldi chi ha il potere chi mette i migliori avvocati e non c'è giustizia ma noi siamo sempre presenti e andremo fino in fondo ci costituiremo in tutti i processi ci saremo sempre e continueremo a chiedere la chiusura immediata e giustizia per i morti e per i vivi e ci occupiamo ora di sanità risultati molto soddisfacenti per il centro trapianti di Rene dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno il più giovane d'Italia quello con i migliori risultati ma non figura però tra i centri italiani autorizzati ad effettuare trapianti da donatori viventi perché ad oggi ancora non si è ottenuta l'autorizzazione della regione campania risultati molto soddisfacenti per il centro trapianti di Rene dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno il più giovane d'Italia quello con i migliori risultati molto soddisfacenti anche dal punto di vista qualitativo con una percentuale alta di sopravvivenza a tre anni dal trapianto renale ma nonostante ciò il centro trapianti di Salerno non figura tra i centri italiani autorizzati ad effettuare trapianti da donatori viventi perché ad oggi non si è ancora ottenuta l'autorizzazione della regione campania il Ruggi di Salerno è un ospedale che può crescere in termini di donazioni e può rappresentare un centro di eccellenza del sud Italia per il trapianto di Rene sia da donatore deceduto che da donatore vivente a dirlo è responsabile dell'unità operativa complessa di chirurgia generale e trapianti di Rene dell'azienda ospedaliera universitaria il dottor Paride De Rosa che tracciando un bilancio dei trapianti effettuati fino ad oggi non ha mancato di evidenziare il numero considerevole di pazienti che vanno fuori regione per trapianti migrazioni sanitarie alte verso regioni che hanno livelli di donazione e quindi di trapianto più elevati soprattutto tra viventi io lavoro al Ruggi di Aragona dal 2008 negli anni precedenti di trapianti e non se ne parlava nel mio attuale ospedale in questi anni abbiamo fatto a Ruggi di Aragona 500 trapianti di Rene è un numero altissimo è un numero altissimo se pensate da dove siamo partiti è un numero altissimo se pensate che abbiamo i risultati tra i migliori d'Italia è un numero altissimo se pensate che la regione Campania è tra le ultime regioni d'Italia in temi di donazione naturalmente non è assolutamente un risultato di cui nonostante che ne andiamo fieri sul piano personale non possiamo pensare che sia il risultato possiamo crescere moltissimo anche nelle donazioni noi abbiamo una rianimazione abbiamo una strocca abbiamo una neurochirurgia siamo credo il primo ospedale della regione in termini di accesso in rianimazione per traumi della strada siamo il crocevia di varie autostrade abbiamo molta necessità di potenziare questa attività nonostante che siamo il secondo ospedale della regione Campania dopo il Cardarelli in termini di donazioni ma anche lì possiamo crescere è un problema organizzativo è un problema di scelte che vengono fatte è un problema di impegno che ci si vuole mettere di fronte ad una necessità assoluta perché nel frattempo i nostri pazienti in lista che aspettano di essere trapiantati vanno fuori regione l'immigrazione sanitaria in tema di trapianti per la nostra regione rappresenta 300 milioni di euro che ogni anno vanno da altre parti fuori dalla nostra regione e questo è un grande gap per il nostro sistema sanitario regionale prevalentemente trapianti di Reni le diceva c'è un obiettivo a cui lei da anni ambisce per i ruggi d'Aragona di Salerno di effettuare altri trapianti multidisciplinari beh assolutamente sì noi siamo il centro trapianti più giovane d'Italia abbiamo la ci vantiamo di essere tra quelli con i migliori risultati ma non abbiamo ancora l'autorizzazione ad eseguire i trapianti di Riene da donatore vivente pensate che pur essendo questa regione la nostra una regione nella quale noi abbiamo scarsità di donazioni e molti pazienti vanno fuori regione per farsi trapiantare da cadavere abbiamo anche un'immigrazione sanitaria per trapianti da donatore vivente quando un congiunto vuole donare il Riene ad un suo familiare nel nostro caso non può rivolgersi a noi perché non siamo stati ancora autorizzati dalla regione Campania non riusciamo a capire il perché i nostri risultati ripeto sono tra i migliori d'Italia e non capiamo per quale motivo non si voglia intervenire ad autorizzarci a fare trapianti da vivente che rappresentano poi una soluzione importante per il paziente ammalato che aspetta il nodo sull'uso delle intercettazioni nelle indagini è stato uno degli argomenti affrontati ieri nell'ambito di un dibattito sulla giustizia chi si è sviluppato a Palazzo di Città nell'ambito della presentazione del libro di Cecchino Cacciatore il diritto tra le righe e tra i relatori anche il capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli è una raccolta degli articoli pubblicati sul quotidiano la città che prendendo spunto dalla letteratura ma anche dal cinema ha dato la possibilità all'avvocato Cecchino Cacciatore di parlare di giustizia e fare riflessioni ampie in più ambiti un viaggio lo definisce lo stesso autore racchiuso nel libro il diritto tra le righe è ripercorso ieri a Palazzo di Città in un incontro che moderato dal direttore del quotidiano Tommaso Siani ed introdotto dal sindaco Napoli ha visto la partecipazione di numerose persone il libro è una cavalcata nell'arte nella poesia nella letteratura antichi classici greci e latini commento l'ultimo film di D'Amelio romanzi di formazione romanzi di attualità in cui ho colto innanzitutto il genio dell'autore e la capacità dell'autore certe volte meglio del nostro legislatore di fermare dei principi che ancora oggi sono utili un libro rivolto a tutti diciamo è come dire una finalità studiata e pensata è rivolto a tutti è rivolto innanzitutto ai cittadini a chi ama leggere e possibilmente anche ai tecnici del diritto tra gli interventi anche quelli del capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli che sul tema della giustizia rappresenta in questo momento una delle voci più critiche rispetto alla riforma Cartabia e ieri proprio con il procuratore c'è stata occasione per parlare del nodo sull'uso delle intercettazioni nelle indagini i magistrati i magistrati applicano la legge e che si muovono sulla base delle leggi che sono a loro disposizione ora diciamo come è stato detto subito dopo gli ultimi eventi giudiziari che hanno insomma interessato il nostro paese senza per esempio intercettazioni non si fanno indagini quindi voglio dire si può decidere se far fare indagini o non farle fare questa diciamo non c'è alla base di questo un interesse personale evidentemente dei magistrati l'accusa è quella di abusare ma guardi l'accusa di abusare delle intercettazioni è un'accusa che a mio parere andrebbe motivata e specificata in ogni caso è stata fatta nel settembre 2020 cioè per i processi scritti a partire dal settembre 2020 è stata fatta una nuova legge sulle intercettazioni in relazione alla quale non mi sembra si sia verificata alcuna come dire vicenda paragonabile a quelle che si erano verificate in precedenza e che vicende queste che si erano verificate in precedenza che erano imposte in realtà dalla disciplina legislativa delle intercettazioni ora insomma è troppo complicato da spiegare magari limitarne la pubblicazione almeno no ma il problema è molto semplice mentre prima la legge imponeva di mettere a disposizione e di rendere pubbliche tutte le intercettazioni oggi impone di rendere pubbliche solo le intercettazioni pertinenti e rilevanti quindi insomma prima voglio dire le intercettazioni rilevanti non potevano essere nascoste oggi possono non essere pubblicate io credo francamente che questa legge sia sufficiente a garantire le giuste esigenze che vengono rappresentate a tutela dei cittadini poi evidentemente il problema è che se ci sono intercettazioni ci sono indagini senza intercettazioni indagini non ci sono e ci occupiamo di maltempo mentre la protezione civile ha emanato una nuova allerta medio che ci accompagnerà fino alla giornata di domani una violenta amareggiata ieri sera ha invece colpito Marina di Vietri sul mare in la mareggiata ha fatto sapere il sindaco della cittadina costiera Giovanni De Simone ha causato danni importanti a proprietà private pubbliche acqua e fango hanno invaso le strade della frazione guardate queste immagini l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando la campania non accenna a lasciare spazio ad una tregua duratura oltre alle piogge che hanno causato danni da lagamenti la scorsa notte è stata caratterizzata da violenti mareggiate sulle coste esposte situazione difficile in particolar modo alla frazione marina di Vietri sul mare il mare grosso ha provocato danni significativi sia sul lungomare che a proprietà private i volontari della protezione civile sono stati impegnati per tutta la notte a cercare di limitare i danni e preservare l'incolumità pubblica le onde sono arrivate ben oltre la strada la forte mareggiata ha provocato danni anche sul litorale di minori intanto la protezione civile della regione campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo permane infatti la criticità idrogeologica per piogge e temporali su quasi tutta la campania fino alla mezzanotte di domani domenica 22 gennaio resta quindi in vigore l'allerta gialla sulle zone 1, 3, 5, 6 e 8 e quindi anche sul salernitano dalla mezzanotte di stasera la perturbazione continuerà ad insistere soprattutto sulla fascia costiera dando luogo a precipitazioni locali anche a carattere di rovescio isolato temporale con conseguenti fenomeni di dissesso idrogeologico localizzati potranno verificarsi occasionali fenomeni franusi e caduta massi anche in assenza di precipitazione e per effetto della saturazione dei suoli dovute alle abbondanti piogge di questi giorni la protezione civile della regione campania ha richiamato i sindaci di tutti i comuni a prestare la massima attenzione nella giornata odierna anche in considerazione della situazione fortemente compromessa dalle precipitazioni di questi giorni restano attivi pertanto i centri operativi comunali il repentino abbassamento della temperatura ha portato inoltre abbondanti nevicate sui rilevi montuosi di cava dei tirreni e della costiera amalfitana regalando così un paesaggio quasi fiabisco due crolli invece si sono verificati nella notte nel centro storico di Pagani in entrambi i casi il crollo ha riguardato strutture disabitate da anni in condizioni di degrado probabilmente ulteriormente danneggiate dalle forti piogge e dal vento dei giorni scorsi attimi di grande paura ieri sera la notte scorsa in alcune città della provincia di Salerno la pioggia intensa andata avanti per ore e ore annunciata anche dall'allerta arancione della protezione civile regionale ha causato danni disagi e problemi in molte zone può venire giù una delle case vecchie del cortile e stesso una casa che non era mai stata ristrutturata a questo si deve anche aggiungere il primo vero freddo assente da mesi e mesi con temperature scese vicino allo zero la situazione più grave pericolosa a Pagani con due diversi crolli avvenuti a distanza di poche ore al lavoro vigili del fuoco la polizia municipale forze dell'ordine volontari della Papa Charlie i tecnici del comune di Pagani per mettere in sicurezza le aree colpite dai crolli nello specifico uno avvenuto in un vecchio stabile disabitato in una corte di via nello Califano e il secondo in corso Ettore Padovano in uno stabile anche questo abbandonato ma vicinissimo a locali abitati sta in pericola di un cito non c'era la luce ma da qua eh ma è più una cosa credo di lei è lei ma lei non è la salute perché lei non deve venire un'altra volta perché deve completare ieri sera sono venuti o sta mettere no ieri sera ieri sera c'hanno arrivato che non può catturare io ce l'avevo prima qua non è arrivato in grado metterla in sicurezza credo per evitare comunque c'è stata una rottura di qualcosa che non dà cazzo come in bianco come in bianco sarà danneggiato perché in bianco e loro hanno staccato una famiglia di via Califano per il timore di ulteriori crolli è stata evacuata trascorrendo la notte da parenti tre soggetti residenti vicino alla zona del crollo in corso Padovano invece sono stati ospitati dalla Papa Giardi e poi sistemati in un albergo il sindaco di Pagani De Prisco ha annunciato che il COC rimarrà attivo ancora per questa giornata e per domani in attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza e che in queste ore potrebbero esserci mancanze di energia elettrica per via di interventi da completare insieme a tecnici dell'Enel inoltre stanno proseguendo i lavori di pulizia nelle due distinte zone per fortuna la pioggia sembra aver dato una tregua non si segnalano criticità sull'alveo comune Nocerino anche se fino a domani è prevista l'erta gialla e dovrebbero arrivare quindi nuovi temporali pure sull'area geografica 3 quella dell'agro come sempre quando piove in maniera continua per ore e ore c'è da tenere sott'occhio la situazione di fiumi e canali in particolare come si diceva l'alveo comune Nocerino i disagi maggiori a San Marzano sul Sarno ma anche a Scafati nella cittadina che dà il nome al più famoso pomodoro al mondo alcune famiglie non hanno ancora fatto rientro a casa per via dell'allagamento delle proprie abitazioni la classica rottura la classica rottura degli argini di canali e fiumi ha fatto giungere le acque nelle terre coltivate molti contadini sono sul piede di guerra hanno praticamente perso i loro potenziali raccolti residenti al buio per alcune ore invece ieri sera a San Marzano nella zona del rio sguazzatorio a causa di alcune cabine elettriche fuori uso anno c'era inferiore attenzione puntata sulla zona di Montalbino già nei giorni scorsi qui si erano verificati allagamenti non ci sono stati invece grossi problemi a Nocera Superiore piccoli smottamenti ma questa non è una novità in località Citola e Cupa Belvedere attenzionata dalla protezione civile l'area di Pucciani ma siamo a Scafati dove gli allagamenti quando piove sono all'ordine del giorno qui si incrociano i vari corsi d'acqua in particolare del fiume Sarno allagati alcuni esercizi commerciali varie famiglie di abitazioni al piano terra hanno subito problemi ed andiamo avanti con il nostro telegiornale ci occupiamo ora di formazione perché l'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione servizi commerciali e servizi sociosanitari tenente Marco Pittoni di Pagani a pochi giorni dal termine fissato dal ministero per le iscrizioni presenta domani mattina nel corso di una nuova giornata dedicata all'open day l'offerta formativa per l'anno scolastico 2023-2024 con alcune importanti novità sentiamo creare il giusto orientamento seguendo le attitudini dei ragazzi l'obiettivo primario dell'istituzione scuola non può essere più solo la trasmissione di conoscenze dal corpo insegnante agli studenti bensì deve essere quello di fornire ai ragazzi gli strumenti in grado di metterli nelle condizioni di orientarsi bene in modo autonomo nel mondo del lavoro e in questa direzione che sono stati pensati e programmati gli open day dell'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione e servizi commerciali e servizi sociosanitari tenente Marco Pittoni di Pagani che domani domenica presenta con un secondo appuntamento l'offerta formativa per l'anno scolastico 2023-2024 con alcune importanti novità una mattinata di incontro e di confronto quella di domani in programma dalle ore 10 alle 13 nelle due sedi dell'istituto guidato dalla dirigente scolastica la professoressa Pasqualina Varchetta per presentare l'offerta formativa incentrata sul rafforzamento dell'attività laboratoriale su collaborazione e su investimenti relativi alle attrezzature dei vari indirizzi di studio della sede centrale di via De Gasperi con l'indirizzo alberghiero e della succursale della vicina via Zito a Pagani per l'indirizzo delle arti ausiliari e delle professioni sanitarie o donto tecnico le decisioni di oggi sono le realtà di domani ha rimarcato la dirigente scolastica a pochi giorni dal termine per le iscrizioni relative all'anno 2023-2024 fissato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito al prossimo 30 gennaio è una giornata di orientamento che va insieme alle altre che abbiamo fatto presso gli istituti di Pagani le scuole medie di Pagani gli istituti vicinori dei comuni vicinori proprio perché questa professione sanitaria ha degli sbocchi occupazionali notevoli sono richiesti e soprattutto sono molto richiesti bravissimi tecnici e noi li stiamo formando è una giornata in cui le famiglie e i ragazzi perché il Ministero ci dice proprio quello di fare molto orientamento perché l'insuccesso scolastico è frustrante per un ragazzo allora dobbiamo cercare sì è vero dobbiamo cercare il successo formativo ma con un giusto orientamento e soprattutto seguendo le attitudini secondo le attitudini dei ragazzi questo insomma ha lo scopo di queste giornate dove presenti l'offerta formativa della scuola mi hanno fatto fare anche delle esercitazioni ai ragazzi dove ci siamo delle scuole dove ci siamo presentati proprio per capire quali possono essere i loro desideri le loro attitudini e il percorso in che cosa consiste che tipo di difficoltà e di impegno prevede tra l'altro non ho detto che abbiamo lanciato un corso per pizzaioli quindi i nostri ragazzi acquisiranno anche quest'altra abilità abbiamo avuto una celebrità del settore e quindi dalla settimana prossima partiamo con questo laboratorio solo pizza che era uno storico locale a Via Luca Giordano a Napoli quindi 40 anni fa parliamo della preistoria per me e lo riproponiamo adesso quindi la professionalità deve essere alta sia in pasticceria che in cucina che in odontoiatria e deve crescere perché gli affetti e il lavoro sono le chiavi dell'esistenza l'equilibrio dell'esistenza è data da quella noi come scuola cerchiamo di anche perché questo è il momento del rilancio del turismo ma ben turismo accoglienza ristorazione poca gente oramai cucina e pertanto anche l'asporto funziona tantissimo e ti dà tante soddisfazioni quindi creiamo le basi per il loro futuro l'appuntamento con l'open day non solo alla sede centrale di via De Gasperi ma anche presso la sede di staccata che ospita l'indirizzo odonto tecnico e che si trova in via Zito sempre a Pagani un momento di incontro per la dirigente Pasqualina Varchetta per presentare l'organizzazione scolastica ma anche la possibilità di visitare i laboratori didattici opportunamente predisposti per la professione sanitaria per porre domande e chiedere informazioni sugli sbocchi professionali del diplomato odonto tecnico che possiede le competenze necessarie per realizzare tutti i tipi di protesi dentaria e apparecchi ortodontici su prescrizione dell'odonto iatra che può esercitare la professione come dipendente o libero professionista come titolare di laboratorio dopo aver acquisito l'abilitazione alla professione direttamente a scuola l'agronocerino sarnese ha una buona cultura odontotecnica odontoiatrica quindi stiamo crescendo insieme alle tecnologie proprio per portare i ragazzi da avere competenze e professionalità diciamo che la scuola di Pagani man mano cresce i ragazzi stanno cominciando a capire che ci sta una grande disponibilità in laboratorio odontotecnici ad accogliere i ragazzi nuove tecnologie perché loro sono più abituati sicuramente tecnologicamente quindi riescono sicuramente ad avere una marcia in più rispetto a noi che ormai ci stiamo cominciando un poco poco a perdere non a caso riscontra grande successo lavorare in CAD sicuramente il CAD restringe i tempi e in più praticamente c'è molta precisione diciamo che è ormai la tecnologia del futuro ormai le impronte non si usano più viene tutto preso con uno scanner intraorale che verrà portato in un file e quindi la tecnologia naturalmente c'è bisogno sempre di una buona formazione di conoscere le forme del dente quindi l'onotecnico rimane sempre un artigiano però si evolvola dall'analogico al digitale avendo competenze ed ora come di consueto è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica la pagina degli appuntamenti andiamo ti divertirai te lo prometto e continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale oggi giornata importante per i Granata allo Stadio Reiki l'incontro Salernitana Napoli ma ne parliamo tra pochissimo subito dopo la pubblicità vi aspetto in collaborazione con Ristorante Eureka i sapori del mare previsioni per domani al mattino sulle coste nubi e schiarite con possibili fiovaschi in montagna cieli coperti con nevicate deboli nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse in montagna cieli nuvolosi con possibili brevi rovesci nevusi previsioni del tempo fornite da 3B Meteo e il club Granata comincia finalmente a muoversi sul mercato dopo una lunga fase di stallo il DS Morgan De Santis pesca in Inghilterra il primo innesto per la retroguardia si lavora anche per Culey sentiamo è William Troste Kong il primo rinforzo in difesa del mercato di gennaio della Salernitana nato in Olanda nazionale nigeriano il classe 93 ha giocato in Italia con l'Udenese prima di trasferirsi al Watford d'altro club della famiglia Pozzo con cui ha giocato in Premier senza riuscire ad evitare la retrocessione nell'attuale championship il centrale nigeriano alto 191 cm ha segnato anche un gol il Watford lo libererà a breve già domani Troste Kong atteso in Italia per visita america e firma arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato ed è una precisa indicazione di Davide Nicola che lo ha avuto all'Udinese non si fermerà qui la Salernitana per il pacchetto arretrato Radovano e Censcadenze potrebbe ritrovare Ballardini alla Cremonese Bronna offerta dalla Francia e Lovato sembra aver bisogno di cambiare aree per ritrovarsi preso Troste Kong la Salernitana vuole chiudere con la Samp per Colli la formula sarà presto con diritto di riscatto un paio di entrate e una o due uscite poi occhi sul terzino con lo Spezia si lavora per lo spagnolo Salva Ferrer che piace anche al Torino in alternativa resta sempre la pista udinese con Ebbosele c'è poi la Zortea che l'Atalanta vorrebbe cedere a titolo definitivo in mediano tutta ruota intorno a Boin che ha qualche offerta ce ne sono anche per la Sanaculibali che però la Salernitana non vorrebbe far partire a gennaio con Sar verso l'Espagnol De Santis valuta altre soluzioni in attacco c'è lo Spezia per Butaim Henri è conteso anche da Club Esseri su Bonazzoli vigila la Lazio saranno 10 giorni intensi sul mercato e la Salernitana sa che dovrà farsi trovare pronta per blindare la salvezza inizia questo fine settimana invece la seconda parte della stagione regolare del campionato di serie di basket chiuso il girone di andata al decimo posto in classifica con 12 punti all'attivo la Givovascafati proverà a migliorarsi in questo girone di ritorno con l'obiettivo di conquistare nel più breve tempo possibile i punti utili in chiave salvezza si ricomincia dal palla energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro la Bertram Iot Tortona palla 2 domenica 22 gennaio alle ore 19 attuale terza forza in campionato che nella gara di andata si è imposta alla beta ricambi Arena Palamangano con il risultato di 72-91 imporsi sul rettangolo di gioco piemontese sarà impresa ardua per i colori gialloblu ma non è impossibile già in precedenti occasioni la compagine dell'agro ha dimostrato di potersela giocare alla pari con qualsiasi avversario e di poter imporre il proprio gioco anche in trasferta proprio come accaduto a Brindisi e soprattutto a Bologna al cospetto della capolista e in serie C invece sempre per il basket in serie C Gold torna in campo domani la capolista Power Basket Salerno attesa dall'insidiosa trasferta in casa della cestistica Benevento nel roster di coach Menduto ci sarà l'esordio di Paolo Zanini e con quest'ultima notizia è tutto al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti vi rimando alle prossime edizioni grazie come sempre per averci preferito arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti